Bene, buon pomeriggio a tutti, intanto se già non ve l'hanno detto benvenuti a BTO, vi sarete resi conto di quante cose da ascoltare, quante persone da incontrare soprattutto qui, questa è la magia di questo evento, io sono Gigi Tagliapietra e ho il compito di fare da moderatore, ma si fa per dire naturalmente perché la moderazione non è tra le mie virtù, parlandovi di qualcosa che apparentemente nulla ci azzecca col turismo, ma perché state of the net? Intanto c'è una storia semplice, io ho conosciuto Roberta Milano a state of the net, a questo evento che parla invece di evoluzione della rete, di tecnologia. Ci siamo conosciuti là, lei poi mi ha invitato a fare un intervento tre anni fa a BTO e a questo punto con Roberta, lei naturalmente ha deciso, dice forse è il caso di provare a rigirare la cosa, adesso facciamo conoscere al mondo BTO che cosa è state of the net, quindi quello a cui assistete è una cosiddetta chiusura karmica, perché c'era un buco nello spazio-tempo, una flessione che faceva sì che non ci fosse una conclusione di questo legame tra mondo del turismo e mondo della rete. In effetti lo scopo è quello, avendo qui tre fondatori di state of the net, attraverso un po' la loro storia, quali sono i temi, di capire qual è invece il legame profondo che esiste tra il mondo del turismo e la tecnologia, perché c'è un po' l'impressione che la tecnologia in questo evento sia il caro estinto, o meglio quello di cui si parla ma non c'è, non ci sono panel specifici sulla tecnologia. Tant'è vero che, come dicevo un mio amico, dice io ho dei dipendenti ai quali se faccio vedere un microchip mi dicono Alain Bourdigon, è uno scarafaggio, perché sapete spesso parlando di tecnologia noi parliamo di qualcosa di cui non abbiamo mai avuto un contatto, ma come ascolterete poi dai nostri dialoghi c'è invece bisogno che la tecnologia non sia affidata ai tecnologi o non sia qualcosa di cui vostro mai grado vi dovete occupare. Come diceva Roby Veltroni lo scorso anno dice rifate i letti nelle camere, ecco allora dovete anche occuparvi di tecnologia. State of the net è un evento che è iniziato, il primo era Udine, il primo era Udine e che ha lo scopo proprio di fare lo stato della rete, cioè è un incontro di persone esperti che fanno il punto della situazione e ogni anno affronta dei temi che ai più possono apparire estremamente avanzati, ma come avrete scoperto tutto è estremamente avanzato, quello che si discute qui nei 149 eventi che avvengono qui nei due giorni è tutto maledettamente attuale e bisogna provare a comprenderlo. Poi State of the net è stato a Trieste e poi quest'anno è stato per la prima volta all'estero perché è arrivato fino a Milano, perché una delle critiche era ma perché lo fate, voi avete idea di dove è Trieste? Voi fate un evento così importante a Trieste, questo la dice lunga sulla nostra capacità di capire cosa sta succedendo al pianeta e infatti parlando con loro ho detto ma com'è andata a Milano uguale come a Trieste, perché alla fine se a uno interessa va a fare queste cose a Trieste o a Milano allo stesso mondo. Quindi abbiamo qua Paolo Valdemarin, Sergio Maestrello e Beniamino Pagliaro, che sono i tre che si sono inventati questa cosa e che tra gli esperti di cultura è diventato l'evento a cui partecipare. Partiamo al contrario, anziché farvi la storia partiamo dall'ultimo evento e poi eventualmente facciamo qualche salto indietro. State of the net 2015 aveva come tema centrale, poi declinato in vario modo, il tema degli algoritmi. Sapete cosa sono gli algoritmi? No? Sì. Fatto un cenno. Chissà cos'è un algoritmo. Sì, c'è più o meno? Sono le alghe che si muovono secondo un certo ritmo, quello è l'algoritmo? No, è qualcosa che in realtà vi incasina la vita. Avete ascoltato Rocco e quello che si può fare con Facebook? E noi pensiamo che i messaggi che io vedo su Facebook siano esattamente quelli che hanno scritto i miei amici. No, ci sono dei sistemi, degli algoritmi, delle formule in base alle quali qualcuno decide cosa vediamo e cosa no. E quindi chi è che vuole parlare di algoritmi? Di cosa si è parlato a Milano in termini di algoritmi e perché sono importanti per noi? Una cosa importante è che un algoritmo alla fine è la soluzione di un problema. Per cui anche se voi avete fatto mai un foglio di calcolo con Excel che fa una somma in fondo a una colonna di numeri, di fatto quello è un semplice algoritmo, è la soluzione di un problema. Oggi in realtà gli algoritmi sono diventati sempre più centrali in quello che facciamo perché molte aziende basano la propria esistenza sul fatto di essere riusciti a risolvere problemi complessi usando algoritmi molto molto complessi. Per cui quando voi fate una ricerca su Google e trovate i risultati ordinati in un certo modo, questi risultati sono ordinati da un algoritmo che è il modo in cui Google ha deciso di risolvere quel problema. E come ci rendiamo conto, costituisce uno dei valori principali di quell'azienda. Come diceva Gigi, la selezione di ciò che vedete sulla vostra pagina di Facebook è determinata da un algoritmo o da una serie di algoritmi che Facebook ha creato per cercare di rendere il più interessante possibile quello che appare sulla vostra pagina. Andando avanti, gli algoritmi, ormai stiamo parlando di automobili sempre più intelligenti, quindi che siano le automobili che imbrogliano di Volkswagen, o le automobili che si guidano da sole di Google, sempre gli algoritmi stiano parlando. E incominciamo ad avere delle situazioni in cui questi algoritmi non influenzano direttamente solo quello che noi vediamo sullo schermo del nostro computer. Nel momento in cui gli algoritmi guidano le automobili sulle nostre strade, dobbiamo essere sicuri che questi algoritmi non ci investano quando attraversiamo la strada, cioè diventa una cosa estremamente tangibile. Ma anche se essere investito da una persona o da un algoritmo... Non so se mi arrabbio di più nell'un caso o nell'altro. C'è il dilemma dell'automobile che si guidata da sole, che deve decidere se salvare il proprietario dell'automobile seduto nella macchina o l'incauto avventore in caso di incidente imminente. C'è un incidente imminente, la macchina deve decidere o uccido il mio padrone o uccido il bambino che ha attraverso la strada. E lì c'è un pezzo di software che deve decidere. E hanno fatto un sondaggio e la gran parte delle persone hanno risposto uccidiamo il padrone, salviamo il bambino. Adesso, a parte che probabilmente sarà una questione di soldi, cioè più paghi la tua macchina, più la tua macchina serve a te. Ma poi il dilemma nuovo è, a questo punto, se io salto davanti alla tua macchina per ucciderti... Ebbè, è tosta questa. Comunque, gli algoritmi stanno diventando sempre più centrali in quello che facciamo. Quello di cui abbiamo parlato, state of the net, è che tipo di impatto questa evoluzione della società, si può dire, ha sui più diversi aspetti di quello che facciamo. Dall'informazione al business, al modo in cui il denaro e la burocrazia e le informazioni si spostano. Quello che è importante considerare è il fatto che se venti o cinquanta o cento anni fa chi aveva un'idea di business probabilmente la poteva formalizzare in un metodo che poteva scrivere in un libro, oggi questo lo fa in un algoritmo. Le innovazioni dirompenti, sempre di più, sono basate su un nuovo modo di risolvere un problema. E risolvere il problema oggi tipicamente si fa con gli algoritmi. Questo porta a cosa? Porta al fatto che chiunque si occupi di affari oggi deve entrare o incominciare a entrare in ordine di idee che la propria impresa dovrà incominciare a produrre software. Perché nel momento in cui l'impresa esiste e interagisce con altri si collega alla rete, deve manipolare informazioni e il modo in cui queste informazioni vengono manipolate è attraverso il software. E capire come funziona il business della creazione e la gestione del software è un qualcosa che moltissime aziende hanno ancora difficoltà a fare e che di fatto probabilmente determinerà il successo delle aziende nel futuro. In effetti, siccome sia Beniamino che Sergio vengono dal mondo dell'informazione quindi quando si dice che lui ha detto come l'informazione viene manipolata ah, ai puristi già vengono l'orticaria e i brufoloni perché l'informazione non si manipola in realtà secondo noi è molto importante che si comprenda appunto che ciò che noi vediamo attraverso ciò che la rete ci presenta non è di per sé vero abbiamo affrontato molto spesso questi temi a state of the net appunto sia dall'aspetto degli algoritmi sia dal rapporto tra gli esseri umani tra le persone e la rete io ricordo quel bellissimo intervento dove si diceva non sono le aziende che twittano sono gli esseri umani vuoi commentare? Sì, buonasera a tutti il tweet che stavi citando è quello di uno dei nostri amici e componenti del comitato scientifico che ogni anno ragiona su quale tema è il tema dell'anno e poi lo porta all'attenzione degli speaker che invitiamo quindi questo è un po' il metodo di lavoro c'è questo nostro amico che si chiama Iwan Sample e lo trovate su Google in varie forme ha scritto un libro tra gli altri lavori che fa ha scritto un libro molto interessante che ha anche il pregio di avere un grande titolo che è appunto quello che spiega come siano le persone a fare un tweet e non le aziende questo in realtà si inserisce se vogliamo anche in tutto un discorso di come le aziende stanno online la reputazione il contatto col cliente tutte cose che ovviamente anche chi si occupa di turismo ha bene presente o deve avere bene presente mi faceva impressione ritornare a all'esempio della macchina che faceva Paolo per esempio quando parliamo di algoritmi che però poi hanno a che fare con la nostra vita tendiamo sempre a umanizzare il risultato di quell'algoritmo che sia un algoritmo che sta solo in un server e lavora e che quindi ci produce un risultato su Google o che determini che cosa vediamo o no su Facebook o che sia invece un robot che compie un'operazione perché anche quel robot il risultato fa un'azione perché c'è un algoritmo che gli ha detto fai quell'azione e forse per la troppa fantascienza o per la letteratura di un certo genere umanizziamo sempre e quindi quando per esempio Paolo diceva prima la frase c'è ah no tu dicevi la frase sul nostro wall di Facebook c'è qualcuno che ha scritto un codice allora tutti noi un po' nell'animo ci sentiamo come qualcuno è entrato e ha visto le mie informazioni siamo molto attenti a questo tema ovviamente e pensiamo sempre sia un po' umano il modificare l'informazione in realtà sono degli algoritmi che non devono se pensate quando abbiamo pensato per anni abbiamo immaginato per anni i robot come degli umanoidi invece si stanno rivelando essere delle scatolotte che girano in un centro logistico di Amazon e quindi il tuo libro arriverà a casa entro un'ora quindi sono lontani da avere gli occhi e forme umane però però stanno cambiando stanno cambiando l'economia l'altro l'altro elemento che mi viene da citare l'hai un po' toccato tu all'inizio riguarda le persone no alla fine una conferenza anche come questa è un modo di incontrarsi e possiamo parlare di internet in modo un po' più consapevole forse da quando internet è una questione di persone da quando è diventato personale e per individuare un po' una data al di là dei neofiti i primi blog ne parlavamo prima internet è diventato un luogo in cui sappiamo dove trovarci in larga parte per tante persone in Italia e nel mondo da quando c'è Facebook perché il signore che ha inventato Facebook a cui facciamo gli auguri perché è diventato papà e soprattutto perché ha detto che regalerà il 99% delle azioni di Facebook in beneficenza esatto ha una sua fondazione è come i genovesi che tirano i coriandoli con l'elastico un attimo mica mica buttiamo così e quindi qual è il vero almeno secondo me non sarà una teoria originale c'è gente anche qua davanti a me più più che ha studiato questi argomenti ma il vero cambiamento che ha portato Facebook sta nel dare a tutti noi a usare la convenzione sociale più semplice e banale che si poteva scegliere eppure fino a quel momento non lo usavamo il nome e il cognome trovando nome e cognome io trovo il mio compagno di classe anche se mi stava antipatico più o meno il suo cognome me lo ricordo mi ha aggiunto l'altro giorno non so se gli dirò sì o no infatti questo è uno dei temi dove lo scopo di State of the Net ma anche di questa presenza qui che siamo certi continuerà è quello di non dare per scontate delle cose di provare a riflettere pensate a metafore come sei amico su Facebook questa roba se uno si ferma a pensare un attimo dice come amico infatti c'è gente che mi ha chiesto l'amicizia sembra cose eppure come dicevi tu richiama tutta una serie di metafore che noi abbiamo nel momento in cui scopriamo che queste metafore intanto è come quando hanno chiamato mouse quella a fare lì siccome mi sono occupato informatica per i bambini i bambini molto più intelligenti di noi mettevano il mouse al contrario perché non si è mai visto un mouse con la coda davanti il mouse la coda ce l'ha dietro e quindi se tu lo chiami mouse o lo chiami pirillo o se lo chiami mouse il mouse lo so c'ha gli occhietti davanti e la coda dietro invece noi facciamo un oggetto che la coda ce l'ha davanti l'altra cosa è questo di capire profondamente intanto prima nozione che vorremmo portarsi a casa è quella che Paolo ha detto attenzione occuparvi di software non è una cosa di cui dovete delegare il totale controllo a qualcun altro no cioè io ho un albergo io ho un ristorante devo fare il sistema di prontazione chiamo qualcuno che ne sa di software litighiamo fa e briga poi io continuo a occuparmi di ristorante e quindi attenzione il vostro futuro fa sì che dovrete capire quanto meno i grandi temi così come per l'automobile non è che diventate tutti dei meccanici o dei piloti ma immagino sappiate che nel serbatoio se c'è scritto diesel ci va dentro una roba diversa da quella e vi hanno fatto anche il buchetto più stretto per non fare lo sapete vero che hanno fatto apposta per evitare gli errori però dovete avere quelle cognizioni di fondo in realtà nel mondo del turismo sta cosa è proprio agli inizi un esempio che mi viene facile da citare avrete letto forse questa mattina o ieri la notizia secondo cui Ryanair ha fatto causa ai Dreams e a Google sapete già di cosa parlo oppure vi racconto abbiamo letto un articolo sulla stampa stamattina abbiamo lo scope nessuno scope comunicato stampa a piatto proprio allora Ryanair che sapete cos'è ha fino al 2014 vendeva i biglietti per volare soltanto sul proprio sito parte di una strategia che l'ha portata a essere una compagnia enorme è la prima in Italia per numero di passeggeri e tra le prime in Europa in ogni caso arrivati nel 2014 con 250 nuovi aerei già con i contratti firmati e quindi da riempire si sono detti no cambiamo strategia apriamo e quindi hanno deciso di vendere anche tramite le agenzie di viaggi quelle ancora che resistono e tramite gli altri canali di vendita è un passo rivoluzionario per loro perché hanno sempre tenuto il controllo molto stretto sui loro canali la notizia di ieri è che Ryanair fa causa a eDreams e Google eDreams viene accusata di aver fatto un sito che sembra il sito di Ryanair e in effetti io l'ho guardato ho parlato anche con quelli di iDreams ieri sera e in effetti è molto simile Google invece viene accusata di aver favorito il fatto che gli utenti che cercavano Ryanair finissero anche sul sito di iDreams perché iDreams aveva pagato una pubblicità per poi portarseli a casa allora al di là che di solito quando si parla di questi problemi di confusione al consumatore c'è un danno al consumatore in questo caso il consumatore in realtà non è granché danneggiato perché quel biglietto l'ha comprato quindi non questa è la questione dipende dipende vabbè dopo ok ok tanto meglio quello che dice Ryanair penso sia mi corregga è meno legato alla salute del nostro consumatore bensì alla percentuale che dovrà lasciare sul conto di Dreams alla fine del mese per il non lascia allora dopo me lo spiega lei ok la base del ragionamento se non sbaglio rimane in piedi abbiamo una piattaforma che distribuisce del traffico per essere trovati su quella piattaforma abbiamo comprato della pubblicità abbiamo inserito delle parole chiave eccetera se siamo tagliati fuori da questo gioco anche il nostro business noi continuiamo a far volare gli aerei ma c'è un altro dei grandi temi affrontato a State of the Net era questo ruolo delle persone abbiamo affrontato il tema parlando di privacy e di security ma di una cosa che si chiama quantified self sapete cos'è il quantified self no eh quanto lo sapete quanto adesso parliamo di quantified self l'aggancio è quando appunto prima con Beniamino si diceva che non sono le aziende a twittare sono le persone e questo è uno dei problemi che affrontano tutti quelli che si affacciano ai temi che affronta BTO dicendo ma chi è che twitta a nome dell'albergo chi è che mette i post su facebook cioè è l'albergo o è il portiere con nome e cognome tu dicevi guardate che facebook ha proprio cambiato la percezione portando tutto a un livello molto molto personale addirittura si è arrivati al fatto che la tecnologia se voi avete in tasca un iphone sapete che conta i passi che fate e vi dice quanto siete stati seduti e la gente comincia a usare queste tecnologie per scoprire quante ore ha passato su una macchina quante ore appunto ha camminato eccetera e comincia a quantificare a rendere tangibile il proprio essere nel mondo questo è un tema straordinario da una parte c'è tutto il tema della salute dall'altro tutto il tema della privatezza ma dall'altro il fatto che la tecnologia ci permette di scoprire delle cose di noi quantificandole che non sapevamo ben sergio scusa sì no assolutamente quanti di voi hanno un braccialetto contapassi o contano i passi sul telefono guardali evviva tutti i salutisti tutti col fisico è un covo di quantifiers in effetti sì è molto semplice il principio è molto semplice cioè raccogliete dati su quello che fate in continuazione quanti passi fate quanto tempo passate facendo che cosa quanto tempo passate su internet su un sito piuttosto che su un altro che cosa mangiate in che quantità tutti questi dati oggi si possono raccogliere attraverso dei sensori con grande facilità con un minimo impegno da parte di chi li raccoglie sono analizzabili con altrettanta facilità da programmi specializzati da applicazioni semplicissime applicazioni sullo smartphone e ci raccontano qualcosa e fanno emergere qualcosa dalle nostre vite ci rendono più consapevoli di come usiamo il tempo di quanto ci muoviamo sembra banale chi di voi misura i passi però effettivamente se si dice che la quantità di passi minima giornaliera a salutare sono circa 10.000 passi e provate a misurarli vi rendete conto quanto mediamente le nostre vite sono invece sedentarie ognuno chi più chi meno Paolo ne fa un sacco di passi non si direbbe e invece si fai i passi sono quei 2.000 che ti sono quei 2.000 che ti fregano io ho misurato i passi sono stato ai 10.000 per un po' quando non ci arrivavo più ho buttato via non volevo più sapere chiaramente sì questo ha delle enormi implicazioni in realtà fa parte di tutto un tema grandissimo che è la quantità di dati che oggi siamo in grado di elaborare la quantità di dati che sono disponibili nel mondo e che ci possono raccontare dalle storie c'è tutto un filone del giornalismo che lavora proprio sulle basi dati oggi disponibili e in Italia sulle basi dati di oggi non disponibili più delle volte abbiamo la possibilità di far emergere significati di leggere in modo molto più analitico quello che facciamo come lo facciamo anche nella nostra salute oppure assumere delle scelte in modo molto più consapevole rispetto a come impieghiamo il tempo io con alcuni dei nostri amici di State of the Net sono partiti come dei grandissimi entusiasti dei social network iper condivisione di qualunque aspetto della propria vita e attraverso quest'analisi quotidiana sono arrivati all'estremo opposto cioè si sono resi conto di come impiegavano il tempo e come viceversa avrebbero potuto utilizzarlo dopodiché c'è tutto il tema della privacy che entra in un mondo anche giuridico di cui io personalmente sono molto poco esperto di cui mi preoccupo anche relativamente poco personalmente ma che ha tutta una serie di implicazioni ma quello che secondo me c'è da notare o vale la pena di avere in un angolo della mente è che se è vero per noi questo processo di cominciare a quantificare i nostri comportamenti quanti passi faccio cosa mangio il sonno come dormo quante ore gioco a candy crash eccetera nel momento in cui la mia attività intrinsecamente mi porta a una relazione sociale perché ho un'agenzia di viaggio perché ho un albergo perché ho un ristorante devo sapere che ho di fronte delle persone che stanno quantificando loro stesse non in assoluto ma in relazione a quello che sono io e questo apre apre uno scenario apre una riflessione quanto meno cioè il fatto che la tecnologia ci sta portando non alla distruzione della persona no? Paolo è considerato da me e da molti altri il papà dei blog lo so che non è il nonno ma sì tu sei per noi per noi Roby mi sei testimone il tuo primo post è stato a proposito di Paolo io ho assunto Paolo come consulente per insegnarmi a fare questa roba che faceva blog che voi sapete che non è una roba che ed era al centro delle persone e lui anziché insegnarmi tecnologia mi ha subito parlato di relazioni di come dovevo gestire tu come lo commenti questo fatto appunto dell'accettare che non è una totale disumanizzazione no anzi credo che credo che quello che le tecnologie oggi ci danno la possibilità di fare e comprendere molto meglio l'individuo l'anno scorso a proposito di Quantified Self l'anno scorso a State of the Net abbiamo avuto Anne Wright ricordi? questa è una ragazza che faceva l'ingegnere alla NASA e lavorava al Mars Rover a un certo punto aveva dei problemi di salute ha lasciato la NASA e si è messa a fare ricerca su se stessa misurando molto molto accuratamente usando non semplicemente le cose commerciali ma anche strumenti di classe medica tutti i dati che il suo corpo produceva fondamentalmente quindi dai pattern del sonno al movimento a tutta una serie di altre indicazioni e ha scoperto di essere una come la metteva lei di essere una mutante ovvero tutta una serie di valori che normalmente la medicina considera regolari in un certo range nel suo caso erano regolari in uno spazio completamente diverso quindi nel momento in cui lei ha incominciato a vivere tenendo questi valori in quello che per lei era la norma ha incominciato a stare bene allora quello che è interessante è che la medicina che conosce così come la conosciamo oggi si basa su delle medie nel senso che quello che si definiamo alta pressione non è veramente l'altra pressione per lei è un'altra pressione per una me più o meno in media è così ma con gli strumenti che abbiamo oggi in realtà si può incominciare a misurare che cosa siamo noi come individui e questo si applica alla medicina si applica al modo in cui lavoriamo io penso di essere in grado di gestire più conversazioni in finestre di chat contemporaneamente della media perché sono abituato perché lo faccio ogni giorno di conseguenza posso creare il mio ambiente di lavoro e il contesto in cui interagisco con i miei colleghi con i clienti eccetera secondo le mie capacità e secondo la mia misura questi strumenti e questi strumenti evidentemente si estendono al comportamento dei clienti e nell'ambito del turismo probabilmente si applica più che in molti altri ambiti il fatto di riuscire a creare dei servizi che sono tagliati su misura per i clienti che in un qualche modo prendono in considerazione il contesto di chi è il cliente e di che bisogna diventa un importante fattore di successo quindi incominciare a entrare nell'ordine di idee di poter in qualche modo interfacciarsi con questa nuvola di informazioni questa nuvola di dati che esiste attorno ad ogni individuo e ad ogni gruppo di individuo ad ogni famiglia ad ogni azienda ad ogni gruppo di individuo e migliorare i nostri servizi sulla base di queste informazioni può di nuovo e di nuovo il caso di essere può fare la differenza ma infatti se ci pensate in tutti i convegni di turismo digitale o no si è a lungo parlato della personalizzazione dei servizi il quantified self primordiale che ho trovato è quando gli alberghi austriaci mi mandano regolarmente gli auguri di buon compleanno hanno preso un'informazione che riguarda me e soltanto me e me la mandano dicendo effettivamente noi sappiamo chi sei ci piaci tu in quanto tale e questa cosa è solo l'inizio di un ragionamento che dice probabilmente che abbiamo grazie alla tecnologia una serie di informazioni a proposito dei nostri ospiti pensate alla questione delle allergie adesso voi al ristorante avete la lista degli allergeni però sono cavoli vostri capire voi immaginate invece ci siano delle tecnologie che mi aiutano a riconoscere senza chiederlo proprio perché come si diceva a state of the net se c'è una curva media e tu sei al di qua o al di là di quella cioè devi morire la constatazione in certi casi la constatazione è questa ricordi due anni fa a state of the net avevamo Doc Sears che promuove l'idea che viene chiamata VRM che sta per Vendor Relationship Management che è il contrario del Customer Customer Relationship Management l'idea qual è? come consumatori siamo stufi di essere gestiti da tutti quelli che vogliono venderci le cose siamo stufi di stare al telefono con qualcuno che ci legge su uno schermo oggi abbiamo la tecnologia che ci consente di essere noi a gestire chi ci vuole vendere delle cose esiste una nuova serie di strumenti che si stanno diffondendo sempre di più che consentono alle persone di controllare il modo in cui si espongono e interagiscono con chi ha bisogno di vendere loro delle cose ad esempio se in questo momento sto pensando in comprare un'automobile posso configurare il mio profilo in modo da ricevere informazioni e pubblicità di automobili non è che non mi piaccia la pubblicità di automobili è che se sto facendo altro non mi interessa ma se sono sul mercato per un'automobile è interessante trovare sempre di più gli strumenti che consentono di dare ai consumatori un qualche grado di controllo della conversazione sempre citando dossier marketer conversations il fatto di quindi di non pensare sempre a degli strumenti monodirezionali per cui dobbiamo capire come fare a pompare nella testa della gente un messaggio che faccia in modo che vengano e mi diano i loro soldi ma riesco a creare uno strumento che sia in grado di ascoltare quello che loro mi dicono e di migliorare il mio servizio e di far loro gli auguri per il loro compleanno di nuovo può essere un fattore differenziante in un mondo in cui sempre di più le persone stanno rendendosi conto di essere individui e vogliano avere il controllo del proprio contesto tra l'altro volevo solo prima che mi scappi la cretinata del giorno perché poi Roberta mi dice ma davvero tu le scrivi queste cose ne ho scritto una ieri sera no è che noi a State of the Net abbiamo incominciato un tormentone quello dello storytelling e poi siamo arrivati qui a BTO e questo tema dello storytelling tu stai dicendo che probabilmente anche un po' di story ascolting non è male nel senso che in fondo in questo processo che sta portandoci esattamente nella direzione opposta a quelli che hanno definito il mondo della tecnologia come disumanizzante in realtà stanno rendendo un servizio enorme alla riscoperta di noi stessi della nostra individualità del valore delle relazioni e quando raccontiamo delle storie vogliamo essere ascoltati quindi anziché preoccuparci no? il fatto è che ormai la tecnologia ci dà la possibilità di raccogliere cioè il mio telefono è pieno di informazioni che chiunque voglia vendermi qualcosa troverebbe molto utili cioè nel mio telefono c'è scritto dove vivo dove lavoro dove sono andato ci sono tutti i miei biglietti degli aerei ma lì è monotone tutti i rai oggi sono siti qualcosa comunque ci sono un sacco di informazioni qua dentro che sono interessanti per chi vuole vendermi qualcosa io posso essere disponibile a cedere una parte di queste informazioni ai miei termini a qualcuno in modo da poter avere un servizio migliore bisogna trovare il modo di mettersi d'accordo sì diciamo che è proprio il salto sta proprio tra ascoltare passivamente o meno perché oggi il più formidabile metodo di pubblicità che conosciamo pubblicità online che conosciamo è facebook perché conoscendoci parecchio si fida dei gesti che noi compiamo dei segnali che diamo e quindi poi ci consiglia proprio quel paio di scarpe per circa un anno facebook continuava a consigliarmi di fare prendere lezioni di ebraico in maniera proprio persistente per un anno io infatti ad un certo punto ho detto se l'algoritmo di facebook mi dice prendere lezioni di ebraico sale in casa che metti sa cose di me quindi il punto è che c'è ancora molta strada da fare perché quello che oggi le piattaforme citavo facebook ma google in modo diverso ma simile come tendenza ha dei dati perché noi li seminiamo un po' in giro in maniera consapevole o meno però in maniera passiva per lo più facciamo like su una pagina e quindi sappiamo che potremmo essere esposti alla pubblicità di tutti quelli che hanno creato un profilo simile alla pagina io faccio like sulla pagina di un agriturismo in toscana magari mi arriverà la pubblicità dei concorrenti di quell'agriturismo però stiamo parlando di passivo io non sto ancora come dice paolo dando quell'informazione e in questo gap c'è anche se ci pensate un'inefficienza paurosa perché chi ha mai provato a ingegnarsi un po' con una campagna facebook sa benissimo che poi la percentuale di persone che vedono quel banner e poi cliccano vicino allo zero perché evidentemente c'è ancora da migliorare l'algoritmo in qualche modo e forse perché come diceva Paolo se noi trovassimo il modo di dire ok io adesso davvero vorrei comprare una macchina sarebbe tutto più semplice forse per una macchina non è l'esempio adatto ma io mi è capitato di iscrivermi che ne so in ambito turistico a una newsletter di offerte di hotel boutique hotel così poi la verità è che le offerte che mi arrivano sono talmente improponibili geograficamente perché evidentemente non sono profilate abbastanza oppure non sono nel range di prezzo che mi interessa oppure sono per il giorno dopo e alla fine l'utilità è zero e anzi quel mittente di email mi inizia anche a stare un po' antipatico perché però pensa tu hai scartato l'automobile che cosa c'è nel centro della centralina di controllo della tua automobile sono davvero poco esperto degli algoritmi non è non è cioè è giovane questi algoritmi ti tengono traccia di quello che ha fatto l'automobile da quando ce l'hai se tu potessi semplicemente prendere quella bassa di dati e dire questo sono io come cliente di automobili posso assicurarti che ci potrebbe essere un altro algoritmo in grado di leggere quei dati e dire per come guidi che tipo di strada fai che tipo di consumi hai ti consiglierei questo prodotto però qua non so se quell'algoritmo sarebbe in grado di di dare anche sfogo alla mia ambizione perché magari vorrei prendere una macchina più bella di quella ci sta io sono il caso tipico volevo cambiare la macchina perché ci si è guastata ho detto la Skoda la Yeti e e volevo una macchina piccola a gas sono uscito con un furgone Volkswagen usato diesel un Caravelle nove posti per il motivo che è l'algoritmo in realtà ma un algoritmo sano avrebbe saputo che sono un campeggiatore che ho sempre avuto macchine grosse che ho un cane grosso che in una macchina piccola non ci sta neanche col calzascarpe e quindi si tratta come dicevate di guardare a questo mondo come l'inizio di qualcosa di grosso di importante da fare che non è prendo la software house e gli dico di farmi il software delle paghe questa tra l'altro è stata un po' la morale dell'edizione di quest'anno di State of Venice la sensazione di un'accelerazione potentissima mentre siamo qua che ci facciamo problemi su come aumentare l'engagement dei nostri contenuti o come interpretare meglio l'algoritmo di Google come forzare le dinamiche della ricerca nei motori in realtà sta succedendo qualcosa di molto potente che ancora facciamo fatica a vedere noi abbiamo avuto nel pomeriggio quest'anno la conferenza era di un giorno nel pomeriggio della giornata di conferenza si sono susseguiti una serie di interventi strepitosi uno è David Orban che venete nella foto che ci ha parlato di intelligenza artificiale poi abbiamo avuto Vinay Gupta che è un global resilience guru personaggio da scoprire un guru della resilienza globale un personaggione che fa di lavoro di lavoro fa il project manager di una delle piattaforme delle più importanti piattaforme di blockchain di database distribuiti poi magari se avanza tempo ne parliamo ma insomma da tutta questa sequenza di contributi è emersa proprio una sensazione di accelerazione potente che mentre siamo qua che ci facciamo dei problemi tutto sommato per noi ancora grossi perché non li abbiamo ancora assorbiti ma piccoli l'accelerazione che sta avendo la tecnologia essendo un fenomeno esponenziale è travolgente e non ne abbiamo ancora pienamente la capacità di intuire dove stiamo arrivando si parla di ne parlava sempre David Hoban di singolarità cioè quel punto ideale in cui l'intelligenza artificiale integra le capacità umane ci porta a un nuovo livello di capacità nelle cose che facciamo sta succedendo qualcosa di molto potente non ce ne stiamo ancora andendo conto e siamo soprattutto figli di una società che è portata invece ad uno sviluppo molto lineare per cui c'è questa questa spinta esponenziale in una società che invece va dritta per un'altra direzione ed è lì che nasce poi tutto lo scarto che stiamo vivendo tutta la disruption ma in effetti è quello che dicevo stamattina in apertura a BTO la sfida di questo BTO rispetto agli altri è che ci sono sette temi bisogna capirli tutti e sette le relazioni fra di loro e capire che la sfida è proprio nella rapidità con cui il tutto sta avvenendo e capire che se le cose che stiamo vedendo ci sorprendono non abbiamo ancora visto niente perché quello che sta accadendo è ancora di più ancora più forte e ha senso come si cerca di fare a state of the net di provare a distillare alcuni pilastri perché non c'è nessuna pretesa di tuttologia ma se volete andare a rivedervi una delle cose più straordinarie è l'intervento che face Marco Zamperini sull'identità se voi andate a vedervi quell'intervento è straordinario perché a parte il personaggio davvero aveva colto il problema dell'identità di chi siamo di come mi muovo in rete Rocco che a conclusione del suo intervento prima ha detto non ho biglietti da visita ma se voi mi mandate un tweet at Rocco Rossitto ci sono quindi tutto il grande tema dell'identità si ribalta e ripeto poi con gli algoritmi non avete ancora visto niente perché Paolo ci ha aperto una prospettiva che dice in fondo se io imparo a gestire questa mia nuova identità questo mio nuovo quantified self self quantificato forse scopro delle cose di me che mi fanno scegliere prodotti o prendere abitudini diverse o scegliere canali di informazione più interessanti no? Sì nello stesso tempo cambiano anche poi tutte le dinamiche di società di civiltà Luca De Biase quest'anno ha portato un intervento bellissimo lui introduceva il concetto di iperstoria cioè siamo oltre la storia la storia comincia con la capacità di scrivere con la scelta di scrivere delle cose di tenere memoria di qualcosa oggi tutto resta a un certo punto ha citato il proverbio latino l'ha invertito scripta volant perché ormai lo scritto passa nel flusso e di nuovo tornano gli algoritmi come un momento centrale cioè chi scrive l'algoritmo chi ha la nuova capacità di scrittura è la capacità di scrivere algoritmi chi sa scrivere gli algoritmi controlla la conoscenza e quindi quello che resta quello che si deposita è il modo su cui si costruisce la nostra società quanti di voi conoscono l'internet archive o la cosiddetta way back machine un tre quattro beh questa è una cosa che chi è che la spiega lo spieghi tu lo spiego io no no è solo perché tu sei più friccone di me no ma sostanzialmente sappiate che c'è qualcuno da qualche parte nel pianeta che fa ogni tanto copie integrali di quello che c'è in internet tant'è vero che alcuni siti che sono scomparsi non ci sono più credete che siano scomparsi e non ci siano più perché voi andate indietro in questa sorta di macchina del tempo io ho scoperto che c'è la mia azienda l'ho venduta a British Telecom otto anni fa ma c'è ancora il mio primo sito del 94 giù di lì e da quello posso ancora navigare c'è proprio sul progetto onde il comune di Desenzano ha tolto tutto offline e invece voi andate nella macchina del tempo andate nella wayback machine dite onde.net la carta dei diritti dei bambini e vi ritrovate lì trovate i fantasiosi primi tentativi di portale con gli arcobalenini queste robe qua e quello che tu stai dicendo è una non profit di San Francisco sì è una non profit di San Francisco che è un pazzo che si diverte molto ad assemblare sistemi multi terabyte di storage e la cui mission è quella di fare un backup di internet ogni sei mesi avete idea di cosa vuol dire fare backup di internet è una roba un amico quando mi occupavo di sicurezza dello spionaggio diceva che l'NSA non misurava i computer in megabyte ma in ettari ettari di terreno occupati da memorie e questo poi sapete Ecelon eccetera ci ha fatto capire che non era così lontano però questo concetto di iperstoria che è venuto fuori da Luca De Biasa State of the Net mi pare interessante da capire rispetto a quello che noi facciamo nel mondo del turismo che è relazione movimento socialità e in fondo la volontà di trovare dei validi motivi per cui le persone vengano o vengano a cena ad assaggiare i capelletti di ieri sera che erano spaziali piuttosto che la grande storia della pedavena che mi pare raccontino domani ma è veramente sensazionale abbiamo tre minuti tre vi scappa una domanda proprio come un bisogno interiore perché se no ne ho una io classica la classica domanda è State of the Net 2016 sei tu tocca a te fate a turno come la presidenza dell'Unione Europea è sempre stato però potrebbe essere un'idea qual è secondo voi tre Flash il tema su cui varrà la pena di ragionare poi ne distillerete probabilmente uno ma intanto quali sono i tre visto che siete in tre temi forti su cui probabilmente ragionare il prossimo anno non è non è semplice però devo dire che il passaggio che abbiamo fatto quest'anno in termini di programma di contenuto con un ragionamento che può sembrare difficile da lontano ma invece fa fare un po' un salto di qualità ed è anche il messaggio che vogliamo portare qua oggi avevamo pensato forse che questa cosa di internet fosse appunto per scambiare dei messaggi o poi appunto per avere un'identità non solo fisica ma anche online il punto è che non è così il passaggio che si è fatto anche personalmente lo vedo molto interessante sugli algoritmi mi fa dire devo tornare a scuola e devo studiare gli strumenti con cui a me la scuola non è che piaccia molto ma trovare gli strumenti per interpretare nel mio lavoro in qualsiasi attività umana quindi poi anche nel lavoro anche nelle vostre aziende capire come prendere questa cosa proprio bene e iniziare a lavorarci in prima persona quindi non so dirti davvero di solito il state di internet è a metà anno quindi abbiamo ancora un po' di tempo per pensarci però a vederla ora vedo che questo tema va approfondito ancora molto e quindi penso che ci possiamo concentrare su questo internet è un'altra roba non lo so trasparenza di internet Paolo per te qual è il tema 2016 in realtà tipicamente i temi delle varie state of the net sono le cose che ci catturano che ci hanno coinvolto di più nel corso dell'anno precedente state of the net è una cosa che noi facciamo assolutamente per noi tre cioè ci piace vedere la gente di state of the net che ci racconta storie interessanti dopodiché facciamo venire anche qualche mio o di altre persone però è completamente egoistico il motivo per cui organizziamo la conferenza che comunque è gratuita l'accesso a state of the net è gratuito e potete guardare vedere tutto quello che è successo a state of the net dal 2008 in qua sul nostro canale youtube andate sul sito di state of the net sotn.it e trovate tutto quello su cui io sto lavorando di più in questo periodo è trovare il modo di far collaborare quelli che fanno il software con quelli che fanno il business per fare in modo che quelli che fanno il software quelli che fanno il software hanno sempre cercato di capire quelli che fanno il business molto spesso quelli che fanno il business non si sono preoccupati molto credo che se quelli che fanno il business non cominciano a preoccuparsi di quelli che fanno il software quelli che fanno il business saranno senza lavoro tra un po' per cui trovare il modo di mettere assieme queste due culture molto diverse è quello che può determinare il futuro per moltissime persone per cui non so dirti come intitolarlo però si ricollega a quello che diceva Beniamino si tratta di incominciare a imparare un sacco di cose nuove poi non significa imparare a programmare però imparare a capire come funziona quali sono le dinamiche e anche programmare è una cosa che mi insegni ci sono vari strumenti che uno può andare adesso a casa e se non proprio programmare da capo giocare è un po' è un po' l'epoca, almeno io la vedo un po' come una replica dell'epoca dei blogger non è che non si potesse scrivere anche su una pagina html però se c'è una piattaforma che mi fa giocare con i contenuti magari mi ci metto con più facilità Sergio, per te? I temi sono questi io in questo momento sono proprio intrippato dall'accelerazione dalle prospettive di lunga scadenza di come si ridisegnano i processi fondamentali della società nel senso che stanno veramente succedendo delle cose profonde da che taglio? poi è una cosa che definiamo sempre in modo un po' non casuale ma nasce nel tempo e da una serie di confronti fra di noi e con voi che fate parte del comitato promotore a questo punto chiediamo in quanto membro del comitato di Stato di Nel Gigi cosa pensi che dovrebbe coprire Stato di Nel quest'anno? no 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 intanto direi per quanto mi riguarda è proprio riuscire ad aiutare le persone che non che pensano di non occuparsi di tecnologia che la tecnologia è qualcosa che fa parte del nostro mondo come quelli che dicono no io non capisco la matematica e poi sanno fare le frazioni in cucina sanno moltiplicare le proporzioni quando preparano un minestrone o quelli che dicono no io la musica non la capisco non l'ascolto sono stonato gli dico se tu non avessi orecchio non sapresti cambiare le marce della macchina perché sapere quando è il momento di cambiare le marce significa che il tuo orecchio è in grado di distinguere le frequenze e al telefono riconosci la voce di tua zia o di tua nonna vuol dire che il tuo orecchio è in grado di distinguere frequenze timbri toni ritmi eccetera poi puoi continuare a dire che tu la musica non la capisci ma questo è una perversione della scuola e non è la realtà secondo me il fatto che state of the net possa diventare più come state dicendo state of the society o state of the business perché non è una roba altra è un bel modo è un bel modo di ragionarci però poi saranno loro a venire a state of the net e come qui a BTO si incontra un sacco di gente straordinaria e le cose più belle spesso avvengono nei corridoi a pranzo o se la rifate a Trieste ci sono dei posti magnifici dove andare a mangiare grazie ai nostri tre ospiti grazie a voi e ci rivediamo da qualche parte qui tra oggi e domani ancora grazie